Riconquistare l'ex, ma sei sicura? Una delle più grandi cazzate che vogliono fare le donne è quella di voler riconquistare l'ex. La fine di un amore sicuramente può far male, ma smettela di piangerti addosso, smetti, io lo amo, io lo amo, perché sei solo una cretina. Analizza la relazione con l'ex, analizza tutti i comportamenti che ha avuto, perché sicuramente si sarà comportato male nei tuoi confronti. Lascia intanto passare del tempo, concentrati su te stessa, sulle cose che ti piace fare, coccolati, inizia a vedere altri uomini, inizia a mostrarti sicura di te, delle tue capacità, inizia a sentirti bella. Intanto lo farai rosicare e ti vedrà sotto una luce nuova, gli sembrerai rinata e sicuramente più sexy, ma però non devi prendere in considerazione il fatto di tornare con l'ex. Non devi assolutamente attribuire importanza. Questa è proprio, dovrebbe essere un'eventualità da prendere in considerazione qualora lui si cosparga dal capo di cenere, venga scodinzolando e faccia di tutto, ma deve veramente fare di tutto. E spesso veramente invece le donne, io lo amo, io lo amo, io lo voglio, continuano a restare, diciamo, bloccate su queste persone, invece di trovare persone nuove, non aver paura di osare, datti altre emozioni, fai altre cose, non stare lì a perdere tempo con un coglione, vattene a trovare un altro, magari più coglione, ma perlomeno un coglione nuovo. Non ha nessun senso, diciamo, perdere tempo veramente nel dedicare energie a uno che se n'è andato. Se se n'è andato, problemi suoi. Tu pensa soltanto, poverino, non sa quello che si è perso. E fottitene assolutamente. E invece non succede così. Invece molte donne, io non la voglio riconquistare. Perché questa è la cosa peggiore. Perché nel momento in cui inizi a ridedicare l'energia, ti ne amorerai sempre di più. Ma soprattutto già magari sei anzianotta, sei vecchiotta, perderai soltanto tempo e ti precluderai la possibilità di altre storie, altre situazioni e non ha veramente senso. Quindi manda a fanculo chi se n'è andato, non dedicare di energie, non dedicare di tempo, sbattitene i maroni fondamentalmente, vatti a cercare un'altra, vatti a cercare un altro e vedrai che le cose andranno decisamente meglio. Riuscirai a ottenere dei grandi risultati e potrai veramente vivere una nuova storia, una nuova relazione molto importante. Seguimi su Instagram e su TikTok. Ciao a tutti e al prossimo video.